Ciao ragazzi, arriviamo qui nel secondo appuntamento di Uncharted 4 ragazzi Nello scorso episodio c'eravamo una serie qua, io lo so qua, non è una serie mi raccomando non è una serie, questa ragazzi non è una serie, è solamente perché voglio un po' festeggiare l'arrivo che sta andando per andare su Uncharted 5 Allora... Allora... Prima di aprire... Vediamo chi c'è... Oh... Ok... Allora ragazzi lo sapete che faccio, faccio un piccolo taglio e ci vediamo alla finestra Ok ragazzi, ebbene sì, ci siamo rivisti fuori, comunque allora ho fatto questo taglio perché sennò volevo fare un taglietto così perché non volevo che il video durasse troppo quindi ho fatto un piccolo taglio ragazzi perché vabbè ho dovuto superare la sua ora niente di che e quindi ci sta Ehm... Ho fatto questo taglio... Ok ci siamo... Ora dobbiamo avvicinare però... Pam... Io non vorrei fare troppo rumore che poi quella la si affaccia tipo alla finestra... Epic moment tipo... C'è chi è? Poi... Poi... Peppi... Poi... Poi... non parlo perché visto che non ci sono i sottotitoli almeno ascoltate ok ora immagino di dover seguire mio fratello sembra non ce la faccio mi devi aiutare grazie però collaboriamo insieme dopo c'è una luce che non si capisce niente allora che senso avevo a farlo scusa ma tu mi freghi tu non sei un vero fratello lo dico a mamma eh sì 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 oddio stavo capottando lo sai va bene andiamo avanti ragazzi like per l'orso che è la mia mascotte però cambierò quella del joystick nell'orso perché le volte appare un orso per fare cose dall'alto ah beh guarda un rampino si non è un'altra cosa ma a mia a mia non me lo dai è cattivo che non me lo dà ecco no 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 e tu? cosa ma è? un altro soprattutto adessoTHT ça S pretty della THT che sta Scusa, io non ho fatto il mega parkour Va bene Oh 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 Che ce la devo fare? Ma come si fa a farla di volare in corsa? Ma che ho un corno? Perché non vai veloce? No Vabbè entriamo dalle parti più brutte Oh Prima io? Volevo farlo stupido Ehi! Sì! Ma io che aspettavo mio fratello No! Allora potremmo andare sia di qua Perché dell'anno sono sicuro che non ce la faccio oramai Ok Oh! No perché fuori? Dai! Oh ragazzi ma non è possibile, non è possibile, non è possibile! Vabbè ragazzi vi taglio questa piccola parte e ci vediamo dopo! Ok dopo anni e anni ce l'ho fatta! Cioè dopo la volta vabbè e ce l'ho fatta e va bene! Qua il titolo lo chiamerò i maestri del parkour ma no! Certo! Oh frate! Come hai fatto? Pure lo voglio fare! Lascio! Doveni là? Mi butto! Oddio mio! L'ultimo! Certo! 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 Ok! Sì! Certo! Ok! Ok! Questa volta l'ho fatto! Ok! 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 ok mi devo buttare qua ok mi butto mi butto perfetto dai vengo che tu ok allora che dovrei scavolcare ok si yeee così si fa siamo liberi ragazzi allora se ora farò un taglio tipo mega enorme è perchè ci vediamo tra poco allora non mi vado di fare il video che ho filmato perchè non tutti oramai la giorno giocando a charted potanto sto facendo il 5 quindi ora taglio e ci vediamo dopo il filmato ragazzi ho ricominciato e ci troviamo proprio col botto ho ricominciato cioè non sapete tutto tranquillo no ci ricominciamo con le botte andiamo a pecchiare sto nano di merda pelato di merda è questo di carne è umano no 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 non puoi 어� oso oddio 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 e va questo qui per է è una ragazza che è barata ma ti ammazziti di buttati oh ma oh abbassati oh non è finita qua io non ho paura di te io non ho paura di te io non ho paura di te oh però qua brinca 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 ok ok ragazzi direi di concludere qui perchè abbiamo visto vintro oggi noi ci vediamo al prossimo appuntamento mi raccomando iscrivetevi lasciate un bel like da me oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like ci vediamo al prossimo video bella ragazzi qui